Stamattina, poco prima delle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sossano, in provincia di Vicenza, in via Saianega, lungo la strada provinciale 9, per la fuoriuscita di un'auto rovesciata su un fianco sotto il piano stradale. Ferita una giovane donna che si trovava alla guida del mezzo. I pompieri, arrivati dall'Onigo, hanno messo in sicurezza l'auto, stabilizzandola con dei pali telescopici e hanno estratto la 19enne del posto, che è stata affidata alle cure del personale sanitario del SUEM arrivato da 90 a Vicentina. Sul posto la pulizia locale del Basso Vicentino. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.